Ben trovati amici di Media24. L'autunno è alle porte e l'inverno si preannuncia molto freddo. La transizione ecologica potrebbe aiutarci ad affrontare meglio questa difficile congiuntura, ma tutto va avanti lentamente, mentre l'eco delle elezioni ci ricorda che il 25 settembre si voterà il nostro commento. Le scuole si sono riaperte. Il mese di settembre chiude con una coda l'estate calda che ormai è alle nostre spalle. La siccità che ci ha accompagnato in questi mesi sembra essersi interrotta, anche se qua e là per l'Italia. Fenomeni di precipitazioni estreme, ne abbiamo avuto un esempio nei giorni scorsi, anche a Bibione ed intorni, hanno creato parecchi danni. A Pordenone ci si prepara per la grande kermesse di Pordenone Legge. Sembra quasi che ci sia in tutti il desiderio di non pensare all'autunno che ci attende e probabilmente al freddo inverno che dovremo affrontare. Il Papa, incontrando gli industriali, ha raccomandato il lavoro dignitoso e la tutela per le lavoratrici madri, mentre gli echi della campagna elettorale ci ricordano che il 25 settembre si decideranno le sorti politiche dell'Italia. La controffensiva ucraina, che ha rianimato le speranze di un capovolgimento delle sorti del conflitto, sono controbilanciate dalle minacce del leader dei Ceceni, che promette sorprese dolorose per gli ucraini. E in mezzo a tutto questo, intrecciarsi di eventi, ci stanno le bollette alle stelle e probabilmente la chiusura dei gasdotti con il conseguente probabile razionamento. La tanto sbandierata transizione ecologica sembra ancora una chimera impantanata nelle solite maglie burocratiche di un Paese che è avvolto dalle promesse politiche, ma molto raramente dalla loro effettiva realizzazione. La domanda che ci si pone in circostanze come questa è per quale motivo gli enti locali e le regioni non si sono già attivati per costruire dal basso un'azione efficace in direzione di una concreta attuazione dei piani energetici locali. A parole, governatori e sindaci rivendicano l'autonomia quando ritengono che gli spazi di loro legittima pertinenza siano occupati da un'eccessiva ingerenza dallo Stato, salvo poi non fare quello che a parole dicono di voler fare. Il caso di Piombino è forse l'esempio più eclatante di fronte a un'emergenza nazionale, l'ente locale si mette di traverso per impedire che il rigassificatore si faccia lì e tutto si impalla in un groviglio che sarà difficile districare. Il tema dell'autonomia energetica è strettamente legata al concetto di democrazia e di partecipazione perché al risparmio energetico e all'utilizzo di energia pulita dobbiamo concorrere tutti, anche noi cittadini, individualmente. La domanda è perché le regioni e gli enti locali non mettono in atto azioni anche con forme di azionariato popolare per raggiungere l'autonomia energetica. La crisi che si è innescata con la guerra in Ucraina potrebbe essere un'opportunità per investire sulle tecnologie pulite e imprimere finalmente una svolta ecologica che non deve attendere gli input dell'Europa o di Roma, ma che parte dal basso e che potrebbe essere anche economicamente vantaggiosa per gli stessi cittadini. È una semplice riflessione per dire che il futuro prossimo che abbiamo davanti a noi dovrebbe spingerci tutti a sentirci più uniti e solidali, nelle piccole come nelle grandi comunità, in un tutt'uno con le nostre istituzioni pubbliche, perché solo un Paese unito può farcela superare gli scogli di una così difficile congiuntura. È augurabile che prima o poi ciò avvenga per il bene nostro, ma soprattutto per il futuro dei nostri giovani. Il Comune di Fiume Veneto aderisce alla giornata promossa da Legambiente Puliamo il Mondo. L'iniziativa coordinata dall'Ufficio Ambiente si terrà il 15 ottobre prossimo. I volontari provvederanno ad attività di pulizia e raccolta di rifiuti abbandonati su strade, fossati, prati e marciapiedi, secondo itinerari e zone prestabilite. Tutti i partecipanti verranno dotati di guanti, pettorine e cappellino, avranno regolare copertura assicurativa, mentre la raccolta sarà già da subito differenziata in funzione della tipologia del rifiuto. Le adesioni si raccoglieranno entro il 22 settembre prossimo utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet del Comune di Fiume Veneto. E anche il reparto di otorino-laringoiatria dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, diretto dal dottor Vittorio Giacomarra, aderisce alla Make Sense Company, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica. L'Otorino-laringoiatria dell'ospedale di Pordenone organizza nell'ambito di tale iniziativa per il 21 settembre una giornata di diagnosi precoce, per sottolineare con un'azione condivisa l'importanza di una diagnosi rapida. La prenotazione da parte dei cittadini potrà essere effettuata telefonicamente allo 0434-399-325, lo leggete anche in sovrimpressione, dalle ore 9.30 alle 11.30, e allo 0434-399-328, dalle ore 12 alle ore 13. Oppure le prenotazioni possono essere fatte direttamente allo sportello del sesto piano del padiglione B, presso la segreteria ambulatori del reparto, dalle ore 13 alle ore 15. E lunedì 26 settembre le scuole primarie che ospitano i seggi elettorali resteranno chiuse per lo spoglio delle schede. Per intervenire sull'inevitabile disagio che questa chiusura può causare alle famiglie, l'amministrazione comunale di Pordenone ha organizzato una giornata ludico-sportiva rivolta ai bambini che altrimenti sarebbero costretti a restare a casa. L'iniziativa, che sarà realizzata grazie alla collaborazione delle associazioni sportive, potrà ospitare circa 500 bambini. Saranno utilizzati sette impianti sportivi comunali, situati nei diversi quartieri della città, la palestra delle scuole Gabelli in via Le Trieste, il palazzetto dello sport di via Interna, la palestra Gallini in via Ungaresca, la palestra delle scuole Pasolini in via Maggiore, quella di via Peruzza, quella di Valenoncello e il Palazen di via Pirandello. L'iniziativa è gratuita, salve il costo del pranzo per chi si ferma anche il pomeriggio. La Polizia di Stato di Pordenone, nella mattinata di ieri, in concomitanza dell'inizio dell'anno scolastico, ha effettuato dei servizi di controllo del territorio, anche con l'ausilio di due unità cinofile antidroga delle polizie locali dei comuni di Caorle, San Michele al Tagliamento. Il servizio coordinato è stato effettuato in prossimità dei plessi scolastici e della stazione autocorriere di Pordenone. Nel corso dei servizi sono stati rinvenuti due involucri di carta, dei quali uno contenente Ascis, mentre l'altro con residui di Euroina. Due ragazzi di cui uno minorenne sono stati segnalati al prefetto di Pordenone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Sette tappe tra le rogge della città, con installazioni artistiche di forte impatto visivo e pannelli informativi che coniugano storia, arte, scienza e biodiversità per lanciare un unico messaggio di sostenibilità. E il mare inizia in città un ecopercorso artistico che si snoda tra le rogge a cielo aperto di Udine per informare e sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente acquatico e marino, invitandoci a rendere più sostenibili i nostri stili di vita e meno pesante la nostra impronta ecologica sull'ambiente e sul mare. Nato da un'idea di Elisabetta Milan, fondatrice del progetto Plastico Cene, guida e artista divulgatrice, il percorso Il mare inizia in città verrà inaugurato mercoledì 14 settembre, con inizio alle ore 11, presso la lanterna di Diogene, in piazza San Giacomo, alla presenza dell'assessore regionale alla difesa dell'ambiente e dell'assessore comunale alla cultura, assieme ai rappresentanti dei partner scientifici e istituzionali coinvolti nel progetto. I vini di Umberto Bigai hanno un certo feeling con le monachie europee e ciò dura da qualche secolo. Negli anni scorsi Umberto Bigai, la cui famiglia produce vini a barco di Pravis Domini dal 1587, fu contattato da un emissario della Casa Reale Inglese. L'emissario era alla ricerca di prodotti d'eccellenza con una storia alle spalle e fu così che decise di portare a Buckingham Palace lo spumante Prada e l'oro che viene prodotto secondo precise regole che si accosta ai migliori champagne premier cru. Cinque secoli e più di viticoltura rappresentano un DNA di gusto, sapienza e qualità che ben pochi produttori possono vantare. Umberto Bigai, classe 1948, diploma di enologo nel 1970, giusto mezzo secolo fa, prosegue dando una svolta ulteriore all'azienda che si estende anche nel territorio mottense. Suo padre Antonio è stato per molti anni primario all'ospedale di Motta di Vivenza. L'Europa torna in passarella sulle strade di Oderzo. 14 nazionali saranno al via della quinta edizione del trofeo Opiterjum European Road Race Under 20 in programma sabato 17 settembre nel suggestivo centro storico della città trevigiana. Non solo alla gara per nazionali si aggiungerà la venticinquesima edizione della Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica che torna con la sola prova maschile dopo tre anni di assenza a causa dell'emergenza sanitaria. Organizza come sempre la nuova Atletica Tre Comuni con il patrocinio del Comune di Oderzo. Due giorni di grande sport, quattro squadre di Serie A, personalità di spicco del mondo della pallacanestro, sold out di pubblico, applausi, tifo sano e mai contro. Potremmo riassumere così il weekend. Dal 9 al 10 settembre al Palasport Atleti Azzuri d'Italia che ha ospitato un quadrangolare di altissimo profilo con club di caratura continentale. A Cavallino, Tre Porti, possiamo affermare che questo torneo ha sancito la reale inaugurazione del Palasport dopo la sua ristrutturazione con l'ampliamento di qualche anno fa, ha sottolineato il sindaco del Comune, Avvocato Roberta Nesto. La nostra amministrazione vuole favorire la pratica sportiva per i giovani e le associazioni del territorio e creare occasioni come queste che sono preziose per valorizzare le strutture presenti e per confermare la bontà della scelta compiuta di investire nello sport. E in occasione della ventitresima edizione di Pordenone Legge l'ormai storica festa del libro con gli autori in città dal 14 al 18 settembre l'info point di A. Pordenone nella Casina Liberty con ingresso da Parco Quirini stenderà l'orario durante tutto il festival da mercoledì a venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30 un'occasione in più per scoprire e vivere la città a 360 gradi soprattutto durante la cremessa letteraria che investe di colori e appuntamenti il centro storico di Pordenone. E concludiamo sempre con una notizia sulla grande manifestazione letteraria che si terrà a Pordenone perché sarà la banda musicale della Guardia di Finanza a suggellare la 23esima edizione di Pordenone Legge appuntamento domenica 18 settembre alle 21 al Teatro Verdi di Pordenone quando prenderà il via l'incontro sul tema la civiltà dell'Occidente processare la nostra storia e cancellare i nostri valori è un errore che può avere conseguenze disastrose con il giornalista Federico Rampini intervistato dal Presidente di Fondazione Pordenone Legge Michelangelo Agrusti a conclusione della conversazione il testimone passerà al prestigioso organico della Guardia di Finanza forte di 45 elementi diretti dal Tenente Dario Di Coste e con questa ultima notizia noi chiediamo qui il nostro notiziario grazie come sempre dell'attenzione buona serata a tutti grazie a tutti